Non meritavamo questo punteggio e soprattutto non meritavamo perché abbiamo avuto la palla del 3 a 2 con Scarpa, addirittura abbiamo avuto la palla del 3 a 3, del 3 a 2 per noi e poi del 3 a 3. Con un fuorigioco voglio valutare, non so se c'era o meno, quindi è una partita difficile da valutare, certo è che facciamo degli errori importanti, ricorrenti, soprattutto sui calci piazzati perché siamo andati in svantaggio con una punizione dove la barriera si è calata. Potevamo intervenire lì, siamo andati sotto con un punteggio così importante sul rigore molto dubbio che mi è sembrato compensativo rispetto al rigore nostro che invece era evidente, al di là di tutto giochiamo contro una grossa squadra e non ci possiamo permettere degli errori ad esempio come il gol sul calcio d'angolo perché complica una rincorsa che stavamo effettuando di nuovo a 10 minuti dalla fine, 6-7 minuti dalla fine, prendere un gol così che ci porta sul 4 a 2 significa chiudere la partita. Ripeto, alla fine se sfortunatamente la palla non so quando è andata fuori di Scarpa ma quella era un 3 a 2 e un possibile 3 a 3 parleremo con la qualità che ha il Catania di una partita diversa. Quindi sono contento che siete soddisfatti da giornalisti ma siamo tutti incazzati da tifosi perché probabilmente meritavamo qualcosa in più. Quindi vi capisco e in questo momento sono il capo di questa truppa dal punto di vista tecnico e vado con la mano in bocca però sono consapevole che a questi ragazzi sotto il profilo dell'impegno e della volontà e della qualità del gioco che stanno esprimendo dobbiamo chiedere qualcosa in più sotto il profilo dell'applicazione e della concentrazione. Non si può in un certo momento far chiudere la partita su un calcio d'angolo. La vittoria è sicuramente importante per la classifica e importante per come è arrivata perché noi sapevamo di venire su un campo difficile con una squadra in salute perché al di là di quello che dice la classifica la Paganese è la squadra che gioca bene a calcio e quindi sapevamo che non era facile a maggior ragione venirci dopo una vittoria che aveva riportato entusiasmo in quest'ambiente. Deve essere secondo me come come dissi con la Leonzio che era stata una sconfitta che doveva essere educativa io dico che oggi è una vittoria che deve essere educativa anche questo perché per vincere questo campionato bisogna giocare col sangue agli occhi come è successo nel secondo tempo e anche il primo tempo non abbiamo giocato male dal punto di vista estetico però arrivavamo lì e negli ultimi metri vedevo troppi tacchi e punta che in questa categoria ma soprattutto in questo girone non ti aiutano a fare dei punti e sicuramente il secondo tempo da quel punto di vista qualcosa è cambiato la squadra è riuscita a fare qualcosa di importante ripeto considerando anche il valore dell'avversario. Nel primo tempo penso che si è vista una sola squadra in campo abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra che comunque è punto a vincere il campionato il secondo tempo tra virgolette è stato fatale quell'1-2 che in pochi minuti siamo passati dal vantaggio allo svantaggio e poi contro questa squadra comunque non è facile recuperarla. La squadra è in crescita e già da domani abbiamo l'allenamento e siamo arrabbiati perché non vediamo l'ora di andare a Caserta a fare risultato. Penso che sia una vittoria meritata perché è una squadra che fa in 38 minuti 5 gol quindi può vedere le qualità che abbiamo e la potenzialità che ci ha. Penso che sia una squadra che ci ha.